Lunedì 17 novembre 2008 nella Sala delle Colonne a Roma si è tenuto il Convegno Nazionale della Filins, Federazione Italiana Licea Linguistici ed Istituti Scolastici Non Statali. Scuole statali e non hanno assistito all'apertura del convegno da parte dell'ispettore Rocco Calogero, seguita dalla presentazione del programma annunciato dal presidente della Filins, il professor Giovanni Piccardo. La nostra associazione fin dall'inizio, ogni anno, ha organizzato un convegno per discutere sui problemi della scuola e per quanto riguarda nuove leggi e nuove disposizioni. Quest'anno il nostro scopo è quello di dare un confronto costruttivo alla legge Gelmini, tanto discussa. Naturalmente noi come federazione abbiamo fatto delle scelte, anche forse politiche, però non dal punto di vista sociale, ma dal punto di vista normativo. Ecco, quindi noi condividiamo la riforma per quanto riguarda la serietà della scuola e la responsabilità che il ministro vuole riportare, mentre discutiamo ovviamente sulla varietà dei tagli effettuati per quanto riguarda il finanziamento alle scuole e alla pubblica istruzione generale. La legge Gelmini prevede un taglio del budget a disposizione delle scuole paritarie, di l'infanzia e primarie, di 133 milioni di euro. Per questo le scuole non statali rischiano la chiusura e viene richiesta al ministro del MIUR una revisione della normativa per far presente degli argomenti risolti. Per quanto riguarda poi la nostra associazione, possiamo dire che le scuole nostre laiche sono per di più scuole superiori, quindi non sono soggette, cioè non sono destinatari di fondi, in quanto questi fondi, come ripeto, sono destinati soprattutto alle scuole primarie, alle scuole dell'infanzia. Quindi le nostre scuole sono poco interessate a questo taglio, però ovviamente partecipiamo anche noi a questo problema. Il secondo punto trattato durante il convegno è stata la rivalutazione delle classi serali in modo da offrire ai lavoratori che vogliono terminare gli studi un servizio scolastico adeguato alle loro richieste. Inoltre viene ricordato di far partecipare un maggior numero di associati. In questo modo si potrebbe tenere una maggiore considerazione da parte delle autorità scolastiche e dei politici, senza escludere l'ipotesi di eleggere un ipotetico rappresentante dell'associazione in Parlamento. In assenza dell'onorevole Dario Rivolta, presidente del Movimento Libera Scuola, l'ispettore Calogero riepiloga quella che è stata l'istituzione scolastica fino ad oggi e ciò che le norme dovrebbero cambiare per riflettere le varenze culturali e professionali che riguardano la situazione contemporanea. Per migliorare la situazione scolastica, le scuole paritarie devono unirsi fra loro per cooperare ed ottenere la parità. La conoscenza è alla base di tutto. La scuola viene resa una palestra per giovani pronta a proiettarli verso il mondo del lavoro. Inoltre la nostra associazione ha affrontato anche il tema dell'abolizione del titolo legale di studio. Cioè da vari anni si discute sull'opportunità di togliere il valore del titolo legale di studio in quanto questo è diventato, per così dire, una merce di scambio. I giovani devono andare a scuola non tanto per il titolo di studio ma per avere delle competenze efficaci e valide per il mondo del lavoro. Quindi la scuola deve diventare un valido trampolino di lancio per il mondo del lavoro e una palestra di formazione sociale. In conclusione si accettano i tagli della riforma a Gelmini, creati a causa della condizione economica italiana, ma finalizzandoli ad un uso costruttivo per evitare ulteriori sprechi come il passato. Noi della Filins, Federazione Italiana, Licee Linguistici e Istituti Scolastici Non Statali, siamo favorevoli alla legge Gelmini, tenendo conto però che la scuola varitaria non costituisce un costo aggiuntivo per lo Stato, ma un risparmio. Lunedì 17 novembre 2008 nella Sala delle Colonne a Roma si è tenuto il Convegno Nazionale della Filins, Federazione Italiana, Licee Linguistici e Istituti Scolastici Non Statali. Scuole Statali e Non hanno assistito all'apertura del convegno da parte dell'ispettore Rocco Calogero, seguita dalla presentazione del programma annunciato dal presidente della Filins, il professor Giovanni Piccardo. La nostra associazione fin dall'inizio, ogni anno, ha organizzato un convegno per discutere sui problemi della scuola e per quanto riguarda nuove leggi e nuove disposizioni. Quest'anno il nostro scopo è quello di dare un confronto costruttivo alla legge Gelmini, tanto discussa. Naturalmente noi come federazione abbiamo fatto delle scelte, anche forse politiche, però non dal punto di vista sociale, ma dal punto di vista normativo. Quindi noi condividiamo la riforma per quanto riguarda la serietà della scuola e la responsabilità che il ministro vuole riportare, mentre discutiamo ovviamente sulla varietà dei tagli effettuati per quanto riguarda il finanziamento alle scuole e alla pubblica istruzione generale. La legge Gelmini prevede un taglio del budget a disposizione delle scuole paritarie, di l'infanzia e primarie, di 133 milioni di euro. Per questo le scuole non statali rischiano la chiusura e viene richiesta al ministro del MIUR una revisione della normativa per far presente degli argomenti risolti. Per quanto riguarda poi la nostra associazione, possiamo dire che le scuole nostre laiche sono per di più scuole superiori, quindi non sono soggette, cioè non sono destinatari di fondi, in quanto questi fondi, come ripeto, sono destinati soprattutto alle scuole primarie, alle scuole dell'infanzia. Quindi le nostre scuole sono poco interessate a questo taglio, però ovviamente partecipiamo anche noi a questo problema. Il secondo punto trattato durante il convegno è stata la rivalutazione delle classi serali in modo da offrire ai lavoratori che vogliono terminare gli studi un servizio scolastico adeguato alle loro richieste. Inoltre viene ricordato di far partecipare un maggior numero di associati. In questo modo si potrebbe tenere una maggiore considerazione da parte delle autorità scolastiche e dei politici, senza escludere l'ipotesi di eleggere un ipotetico rappresentante dell'associazione in Parlamento. In assenza dell'On. Dario Rivolta, presidente del Movimento Libera Scuola, l'Ispettore Calogero riepiloga quella che è stata l'istituzione scolastica fino ad oggi e ciò che le norme dovrebbero cambiare per riflettere le varenze culturali e professionali che riguardano la situazione contemporanea. Per migliorare la situazione scolastica, le scuole paritarie devono unirsi fra loro per cooperare ed ottenere la parità. La conoscenza è alla base di tutto. La scuola viene resa una palestra per giovani pronta a proiettarli verso il mondo del lavoro. Inoltre la nostra associazione ha affrontato anche il tema dell'abolizione del titolo legale di studio. Cioè, da vari anni si discute sull'opportunità di togliere il valore del titolo legale di studio in quanto questo è diventato, per così dire, un match di scambio. I giovani devono andare a scuola non tanto per il titolo di studio ma per avere delle competenze efficaci e valide per il mondo del lavoro. Quindi la scuola deve diventare un valido trampolino di lancio per il mondo del lavoro e una palestra di formazione sociale. In conclusione si accettano i tagli della riforma Gelmini creati a causa della condizione economica italiana ma finalizzandoli ad un uso costruttivo per evitare ulteriori sprechi come il passato. Noi della Filins, Federazione Italiana, Licei Linguistici e Istituti Scolastici Non Statali siamo favorevoli alla legge Gelmini tenendo conto però che la scuola varitaria non costituisce un costo aggiuntivo per lo Stato ma un risparmio.